Buongiorno a tutti, sono Maria Teresa dell'APS Zenzero, APS Genovese, che insieme all'Ecoistituto ha organizzato questa conferenza. Questa conferenza fa parte di un ciclo che abbiamo cominciato a mettere in cantiere questa primavera, quando si è cominciato a parlare di transizione ecologica e abbiamo cominciato a chiederci quale transizione ecologica vogliamo. Per mettere, per fare chiarezza su, per tentare di fare chiarezza su questa cosa, abbiamo invitato tutta una serie di esperti che vedete in questa slide, nella parte sinistra di questa slide, e tutte queste conferenze sono registrate e sono visibili sui nostri siti che sono zenzero.org e coistitutorece.org. Scopo di queste conferenze è anche quello di cercare di avere delle informazioni, di capire, perché le cose oggi sono abbastanza complicate, non basta più fare gli attivisti, bisogna proprio avere la formazione, capire le informazioni sulle cose. Oggi siamo arrivati, nella parte destra c'è della diapositiva, c'è le prossime conferenze. Oggi partiamo con quella di Hugo Barti, chimico dell'Università di Firenze, e poi continueremo con Francesca Mazzino, laureata in architettura e docente della Fatticoltà di Architettura dell'Università di Genova, specializzata nel paesaggio. Poi continueremo con Grazia Francescato e Luca Montanaretta. Prima di passare la parola a Federico, che illustrerà la conferenza di oggi e il relatore di oggi, e introdurrà il relatore di oggi, vi raccomando al solito di tenere spenti i microfoni, eventualmente anche le telecamere, non siamo tantissimi, ma a volte se siamo un certo numero la rete non ci tiene, quindi la telecamera è opportuno tenerla spenta, e vi ricordo che per il dibattito finale preferiamo vivamente le domande scritte, in modo da dare a tutti la possibilità di esprimersi. A questo punto direi che passo la parola a Federico per introdurre la conferenza di oggi. Bene, buonasera a tutti. Abbiamo appunto il piacere di avere con noi ospite Hugo Bardi. Hugo Bardi è un chimico, quindi è un collega, ci siamo conosciuti qualche tempo fa in quel di Firenze. Hugo Bardi è docente appunto all'Università di Firenze, ed è anche un ruolo un po' importante, perché è membro del Club di Roma, di cui magari ce ne parlerai un po' di questa tua esperienza. Ha molti campi di interesse, quindi si potrebbe dire che lui ha questo approccio multidisciplinare, i problemi che affronta sia come docente, come ricercatore all'università, ma anche come divulgatore scientifico, perché, come dire, si vede che è molto attivo in questo compito. Si interessa di esaurimento delle risorse, ne parleremo appunto per quanto riguarda il mare, della dinamica dei sistemi più o meno complessi, anche questo sarà un argomento che tratteremo oggi, e della scienza del clima e nonché dell'energia rinnovabile. Quindi, come vedete, come dire, è un esperto di tutte le tematiche che oggi dobbiamo in qualche modo affrontare. Dicevo appunto che è un divulgatore, molto bravo, l'ho invitato con piacere perché vedrete ci stupirà, ma è anche un blogger, quindi molto molto presente nella rete, con alcuni suoi siti estremamente interessanti, ed è autore appunto di diversi libri in cui insieme alla pubblicazione di tipo scientifico c'è anche un libri, come dire, di tipo di informazione, quindi divulgazione scientifica a tutti gli effetti. Cito alcuni titoli, La fine del petrolio, Il libro della chimera, L'effetto Seneca, La terra svuotata. Oggi parleremo appunto, il filo conduttore della nostra conversazione di oggi, e su un altro tema che riguarda appunto quello delle risorse, ed è Il mare svuotato. È un libro che Ugo ha scritto in collaborazione con Inale Perissi, che è una sua collega, di cui magari se lui ci poi darà qualche informazione in più. E tratta un argomento che nel dibattito attuale rispetto alla transizione ambientale, energetica, non viene molto trattato, quello del mare, anche se il mare, poi in realtà il nostro pianeta è un pianeta d'acqua, e quindi dovrebbe avere importanza. Ecco, cominciamo allora a trattare con… Ecco, intanto vabbè, Ugo dici un po', com'è che ti è venuta l'idea di trattare il tema del mare e delle sue risorse? Microfono, scusate. Come ci è venuto in mente? Risponde a due domande a un colpo solo, chi è Ilaria Perissi, la mia collaboratrice, e come è venuto fuori questo libro? Allora, vedete, nel 2012 ho scritto un libro che si intitolava La Terra Svuotata, e quindi capisci dove è venuto fuori il titolo Il Mare Svuotato, però abbiamo cominciato da allora, io e altri, a occuparci di risorse in termini generali. Ti dirò, ti posso dare proprio l'inizio di tutto, che nel 2001, nel settembre del 2001, l'11 settembre del 2001, io ero in America, all'Università di Berkeley, ma a un certo punto ho acceso la televisione e dico, mamma mia, che succede? E da allora mi è parso di capire che avessimo un problema di risorse. Cos'era successo quell'11 settembre del 2001, ve lo ricordate? Comincia ad essere lontano nel tempo, sono passati ormai più di vent'anni, ma fu una scossa notevole, l'attacco alle torri gemelle. Ero lì, e da allora ho cominciato a occuparmi di petrolio, ma poi il petrolio alla fine ti viene a noia, perché parli sempre di petrolio, alla fine ti occupi di minerale in generale, alla fine abbiamo espanso l'argomento alle risorse in generale. Allora nel 2000, fai conto, 2016, cominciò a lavorare con me, la dottoressa Perissi, che è una mia allieva di qualche tempo prima, che lei aveva preso il dottorato con me, e soprattutto una chimica strusa, che tu come chimico, Federico, la chimica dei liquidi ionici, se ti incuriosi. Era una cosa, chimica bella, di quella non che, un baubau micio micio, chimica di quella. E aveva preso il dottorato su questo argomento, e poi era andata a fare un po' di altre cose, e aveva preso il dottorato su questo argomento, e diceva che facciamo, e studiamo le risorse. E ci mettemmo a fare un modello matematico, più di uno, ovviamente, i modelli ci divertiamo tanto, ma l'idea non era tanto di fare modelli per fare previsioni. E credo che avete tutti visto, negli ultimi due anni, come i modelli fanno delle pessime previsioni. Su tanti argomenti, ma veramente. Cioè, se voi cercate di usare un modello per prevedere qualcosa, non funziona, garantito. Anzi, se volete che qualcosa non succeda, vi suggerisco di fare un modello che lo prevede, dopodiché è garantito che non succederà, non nei tempi in cui il modello vi dice che succederà. Comunque, di qualche modello parleremo, no? Sì, questo senz'altro. Ma il modello serve per capire il sistema. Certo. Il modello ci ispiravamo a un'idea di un pedagogo americano, dell'MIT, che io ho una moglie che è laureata in pedagogia, c'è qualcosa a che vedere con questa cosa, che si chiamava Samuel Papert, e che parlava di modelli a misura di mente. Mind size models. Cioè, un modello che si può capire. Allora, se tu capisci... Quindi anche per non agli addetti ai lavori, quindi è così? Come dici, scusa? Anche per non agli addetti ai lavori, quindi possono capire... Ma se è possibile, ma guarda che gli addetti ai lavori, ti posso dire confidenzialmente, tanto nessuno ci ascolta, fammette, che molti degli addetti ai lavori non capiscono cosa stanno facendo, incluso io. Quando usi un modello complicato, io ne ho usati, mi sono divertito, non sai cosa stai facendo, è normale. Quindi, se usi un modello mind size, a misura di mente, riesci a capire come funzionano le cose. Ho visto che c'è una slide su questo argomento, che ora mi sono ripartito da un modello semplicissimo, che è quello chiamato di Lotka Volterra, che forse... Scusa, volevo introdurlo dopo, ti dispiace, perché volevo parlare dei banchi di Terra Nova. Infatti, infatti, questo è interessante. Ma è un modello semplice, te lo introdurgo. No, d'accordo, lo so. Assumo rapidamente che è lo stesso modello, incidentalmente, che si usa per le previsioni epidemiologiche. Allora uno dice, allora non lo voglio. No, no, però... Abbiamo fatto una scaletta. Funziona qualitativamente. Cioè, capisci cosa succede. È quella l'idea. Allora, penso, Ilaria, dico, ma cosa studi? Ilaria, mi è venuta un'idea. Studia la caccia alla balena. Ecco, infatti. Lei si è messa a fare un modello della caccia alla balena e gli è venuto benissimo. E a questo punto, non per prevedere, perché le balene sono finite un po' di tempo fa, ma gli è venuto un modello che spiega perché non ci sono quasi più balene. Ce ne sono ancora, per carità, ma ci sono rimaste molto poche balene nell'oceano. Io volevo, se tu sei d'accordo, volevo arrivare al tuo libro. Esattamente. Tanto è un libro molto interessante. L'ho letto con gran piacere. E invito veramente a leggerlo, perché, come dire, è una storia, diciamo così, di pescatori, diciamo i tempi... Una storia di pesca, di pescatori e di pesci, appunto delle balene, di storioni e di tante altre cose, che va dai tempi antichi fino ai giorni nostri. E lì, in un capitolo, tu lo dedichi ai banchi di Terranova. Io, quando ho letto questo nome, mi è venuta in mente una cosa che era, appunto, i Capitani Coraggiosi. Non so se adesso state vedendo la copertina del film. È un vecchio film degli anni 30, con Spencer Tracy, che mi era molto piaciuto, e che racconto, tra l'altro, è tratto da un racconto di Kipling. Quindi è una storia di formazione, insomma, di un ragazzino molto viziato, il quale, durante la crocina con suo papà, nell'ogiotto di famiglia, cade in mare e viene salvato dai pescatori. Sta, appunto, è nella zona dei banchi di Terranova e tutto il film si svolge, appunto, in questa zona. Siamo negli anni 30 e possiamo andare a vedere, se il filmato adesso parte, qual era la situazione della pesca in quei tempi. Io ho ancora nel mente una scena del film in cui sto ragazzino sulla sua barca per la prima volta va a pescare e tira fuori dei pesci incredibili di grandezza. Ed ecco qui il filmato. Ecco, nel film si sono esattamente queste imbarcazioni e questo è il merluzzo che nei banchi di Terranova veniva raccolti in modo estremamente copioso, come vedete. Quindi con barche a vela e anche con sistemi di raccolta del pesce che andava a funzionare a terreni. Ecco, questa è appunto l'operazione che i capitani coraggiosi fanno e vabbè, questo è il filmato. Quindi siamo negli anni 30, una copiosa quantità di merluzzi e adesso, Ugo, raccontaci. Si pesca ancora qualcosa su questi banchi? È ogni cosa che tocchi quando vai a trovare la storia delle risorse, che sia petrolio, che sia minerali, che sia i pesci, ti accorgi tutto un mondo, una saga. È ogni cosa, una sua nascita, una sua crescita. Praticamente, sto scrivendo un piccolo pezzetto sulla narrativa dello sfruttamento delle risorse, che seguono una saga di come quando vedi un film, vedi che c'è l'eroe che poi cresce, trova delle grandi difficoltà, le supera e poi si assesta. E lo stesso per i banchi di Terranova. I banchi di Terranova sono una storia incredibile che ha ispirato Kipling con quel racconto, che è molto bello, anche il film degli anni 30 è molto bello, con Spencer Tracy. Tanto si può trovare ancora su YouTube. Molto romanzato, perché insomma, molte cose, ma chiaramente facciamo della fiction, ma d'altra parte, quando parli di Moby Dick e di Le Balene, la stessa cosa. Le Balene è un ciclo un po' prima dei Merluzzi. Il Merluzzi era un pesce di un'abbondanza incredibile che fino agli anni 20, anni 30, era effettivamente abbondante, se non che a un certo punto entra nel mezzo la pesca industriale. E qui si comincia a vedere il problema, perché finché c'erano queste barche a vela che già facevano dei grossi danni, tenete conto che le balene, un certo tipo di balene, quelle che si vedono nei film di Moby Dick, sono state esterminate, praticamente ridotte a zero, con delle barche a vela. Una barca a vela e di gente con una fiocina che andava a rincorrere. Non è che ci vogliano grandi tecnologie per sterminare. Il Merluzzi, siccome si riproduce più rapidamente della balena, è stato sfruttato per un periodo un po' più lungo e comunque andassero le cose ai fili pratici. Se peschi di più di quanto il pesce si riproduce, a quel punto il pesce sparisce. A questo punto di solito si chiama uno scienziato, più di uno, che ti fa un modello. Ecco così, volevo parlare di questo modello, perché anche quella è una storia carina. Però il modello che hanno usato quelli della pesca, cioè i scienziati canadesi, che è tutta la storia della gestione della pesca da parte delle agenzie apposite del governo canadese, basate su degli scienziati, che facevano il modello. Non si sa come, questo modello era sempre sbagliato. Ti diceva sempre che potevi pescare di più di quanto non avresti dovuto pescare, e tenendo conto anche che poi i pescatori non lo dicevano a nessuno, ma pescavano ben di più di quanto avrebbero dovuto pescare, va a finire che è stato un caso classico di collasso, proprio collasso totale, di quello che si chiama il banco di pesce, la fishery del mare del nord. È completamente distrutto negli anni 60 circa, 70, insomma ci sono stati più di più di una manovra. Ma insomma a un certo punto, vi ricordate i bastoncini Findus? Erano fatti col merluzzo canadese. Il bastoncino è un'invenzione degli anni 50. Grande invenzione, devo dire. Non è che non fate me di male di questo, è un cibo buono, poco costoso, intelligente, però se esageri, come tutte le cose, è successo che negli anni 60, 70, sparito, andate a leggere, lo comprate al supermercato, i bastoncini Findus, c'è scritto Merluzzo del Pacifico, perché nel mare del nord non ci sono più merluzzi. Non ci sono, insomma, sono un po' ritornati, si continuano a pescare, si continuano a leticarsi, ci sono altri tipi di pesce, c'è tutta un'interazione tra le varie specie che esistono nel mare del nord, perché il mare del nord è un mare estremamente pescoso, un materiale fortemente ossigenato dalla corrente del golfo, quindi c'è moltissima fauna che ogni tanto arriva, va di moda un certo tipo di pesca, ogni tanto allora si esagera con quel tipo preciso di pesce e allora c'era uno che si chiamava il turbot, che a un certo punto gli spagnoli avevano, gli andava bene, gli spagnoli hanno delle pescherecci che sono delle astronavi. Noi qui in Italia abbiamo una specie di parchette, non dico arremi, ma insomma piuttosto vecchie e poco sofisticate, gli spagnoli avevano messo su una vera flotta di pesca d'altura oceanica, andavano a pescare nelle acque del mare del nord, il governo canadese non era troppo contento, ha detto smettetela, noi non lo smettiamo, noi lo utilizzavano, a un certo punto gli hanno mandato una parola a metà guerra e ha mitragliato un peschereccio e ci è mancato un pello. Anche le guerre per il pesce. Fa la guerra davvero a furia di... Vedete cosa succede, finché il pesce è abbondante, nessuno fa la guerra, se non esageri, non succede niente, perché effettivamente il pesce è una risorsa estremamente abbondante che non solo è abbondante ma si rigenera anche rapidamente. Ci vuole una certa... Bisogna metterci l'anima per distruggerlo in modo così completo che non si rigenera più. Eppure gli esseri umani tanto furbi ci stanno riuscendo. Sì, perché questo è un argomento che merita di essere... Senti, di Volterra e di Lotka, ci vuoi parlare un attimo? Perché è interessante questo... Raccontacelo tu, perché è da capire appunto il motivo per cui i mari comunque si stanno svuotando, perché poi questo, quello che ci hai descritto, è un fatto, mi pare di capire, generalizzato. Insomma, vanno un po' per tante risorse del mare, che si stanno in qualche modo esaurendo, e vorremmo capire il perché. Lotka e Volterra, per un chimico fisico, è una cosa che ti piace tanto. Proprio lo vedi, lo vedi che piace enormemente. Purtroppo c'è stato un grosso problema. ma a parte Lotka e Volterra erano due ricercatori indipendenti, uno stava in Italia, stava a Roma, Volterra, che è stato anche presidente del CNR, l'altro era Lotka, Alfred Lotka, un immigrato della Polonia, stava in America, e hanno fatto questo modello indipendentemente, perché è una logica, gli è venuto in mente ad entrambi, di fare la stessa cosa, che è un modello semplice, mind size, a misura di mente. E' quello che stiamo vedendo, scusami a Ugo. Che semplifica molto le cose. Per contacelo un po'. E viene, purtroppo, viene banalizzato. Attenzione, il fatto che un modello è a misura di mente non vuol dire che sia banale. È estremamente profondo, ma tu puoi capire che cosa succede. Allora, vedete qui in questa figura, si vedono queste onde che vanno su e giù, che rappresentano la preda e i predatori. Tipicamente, sempre per banalizzare il modello, si parla dell'isola delle volpi e dei conigli, in cui si parla un'isola ipotetica in cui ci vivono solo conigli e volpi e le volpi mangiano i conigli. Diceva bene, che succede di male? Succede che le volpi si riproducono in numeri eccessivi, mangiano troppi conigli, i conigli muoiono e a un certo punto spariscono, poi c'è l'assemblea delle volpi, il governo delle volpi si riunisce per fare un decreto su cosa fare perché sono spariti i conigli. Allora decidiamo dei sussidi alle volpi perché ammazzino più conigli nel modello, questo però si evince. Che succede? Quindi a un certo punto le volpi cominciano a morire di fame, a morire e a morire di fame c'è sempre meno volpi, i conigli a questo punto tutti contenti, dice facciamo quello, si riproducono come conigli e a un certo punto fanno conigli, non si sa bene quale sia l'attività sessuale dei conigli né perché siano stati presi come... Però effettivamente si riproducono velocemente e ritornano su e il ciclo ricomincia che con tutte le adeguate cautele che non è mai esattamente così, che non esiste un'isola dove ci siano volpi e conigli che poi vai nel sistema biologico, nell'ecosistema, non trovi questo andamento. Ma questo è un modello estremamente generale di quello che si chiama la dissipazione dei potenziali termodinamici. Ed è estremamente generale. Se guardate le curve dell'epidemia, noi siamo i conigli e i virus sono le volpi. Noi siamo la preda, allora i predatori. Vedete esattamente queste curve. Nonostante, ma io fermo, faccio, 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 faccio e giù, un po' come gli pare. Non che non si possano fare cose, ma insomma, il sistema si sfoga in un certo modo perché è difficile fermare un virus che è un animaletto di dimensioni sub-micrometriche così come in un'isola ipotetica dei volpi e conigli, non è che volpi e conigli si mettono insieme, sviluppano armi da fuoco, non funziona. Torniamo al mare, ti spiace. Avevo appunto le pesce e i pescatori, così vediamo un po'. Perché il problema era attualmente sono andato a consultare un po' di siti dei pescatori italiani e loro dicono che sono assolutamente contrari per esempio ai fermi di pesca. Ecco, tu guarda questo, tra l'altro lo tratti in qualche modo anche questo aspetto del libro. Tu come la pensi questo argomento? Cioè, chi ha chi ha ragione? Oppure, come si può fare e comunque sia è possibile non votare in questo caso i mari? Come sempre, ci sono dei problemi intrecciati, fortemente intrecciati che non li risolvi e normalmente quando entra di mezzo il governo a cercare di regolare è un po' critico su questa cosa. di qualcosa fa peggio. No, davvero, non è uno scherzo perché veramente il governo non è, mette pesantemente le mani su queste cose regolarmente. Un po' un legante di carattere di governi generali, non credo soltanto degli italiani, scusami, tanto per essere chiari. Mi sembra che sia una scelta del politico motivata da alcune cose che appunto a quanto pare poi alla fine non sono le cose che funzionano. Assolutamente, se nel mare del nord siamo arrivati alla guerra a spararsi addosso vuol dire che qualche errore di gestione c'è stato perché normalmente no. Allora, che succede? Qual è l'antidoto al modello di Lotka-Volterra? C'è un antidoto. C'è un antidoto che è stato studiato e proposto da una signora che si chiamava Eleanor Ostrom che fra l'altro rimane tutt'oggi il solo premio Nobel una donna premio Nobel per l'economia che lei ci ha ragionato sopra. Faccio un passo indietro. Ancora prima, no, un po' dopo Lotka-Volterra un signore che si chiamava Garrett Hardin che era un biologo non so se ci sono biologi in sala insomma quella cosa Hardin aveva messo le basi teoriche del modello di Lotka-Volterra applicato all'economia i cosiddetti beni comuni come si gestiscono i beni comuni lui dimostrò che se li gestisci massimizzando i profitti li distruggi semplice ma è vero funziona il modello mind-size semplicissimo non vuoi cose matematiche strane dici vuoi gestire i beni comuni gestisci per la massima e la profitta e tutti distruggono quello che posso perché non rimane più nulla è quello che succede arriva Elinor Ornstrom molti anni dopo non c'è più da non tanti anni credo si è morta nel 2012 ma fa un lavoro monumentale bellissimo che non ha avuto impatto cioè tutti la lodano per tantissime buone ragioni ma non hanno veramente capito l'impatto di quello che lei ha detto hanno detto sia una comunista non l'hanno voluto dire ufficialmente però lei diceva una cosa non proprio comunista ma diceva che il bene comune che sia pesce grano gatti volpi conigli si gestisce dal basso guarda che geniale e non lo diceva solo ho pensato sta cosa sono professore universitario ho fatto degli studi e lei ha trovato che quando tu gestisci il bene comune in modo orizzontale cioè fai parlare gli attori si parlano fra di loro è così formano un network e si gestisce bene è sperimentale è storico vai a vedere funziona su questo c'è questa tua bella idea di appunto come dici tu di riportare nelle scuole perché questo mi pare aver capito questi come lo devi anche amare dei sceneggiati anche facciamo anche quello sì no d'accordo però mi sembra che inquadri l'argomento che stai trattando in questo argomento poi magari lo racconti meglio tu insomma la storia è un po' questa nelle scuole c'è una rappresentazione in cui c'è un pescatore anzi una famiglia di pescatori e una famiglia di contadini e sera sia il pescatore che il contadino torna a casa e trovano in entrambi i casi i ragazzini che di papà papà ho fame ho fame portami qualcosa di mangiare va beh io se permetti c'è anche una nota carina perché appena arriva sia il contadino che il pescatore la prima cosa chiedono alla moglie sia stata fedele la moglie molto pazientemente non è nel caso ma se no lasciamo a perdere è vero che non tirarmi fuori dalla storia che c'è il figlio che assomiglia al fattore o l'altro che assomiglia al vicino di casa vabbè comunque va avanti così questa storia poi magari ce la racconti un po' meglio tu finisce male perché finisce tu racconti in questo racconto che i figli del pescatore muoiono di fame mentre i figli del contadino sopravvivono ecco questo mi sembra che sia un buon esempio di quella cosa che dicevi tu di come dire i beni comuni che vengono difesi in qualche modo dalla base chi è proprio sul come dire chi li gestisce in questo caso il pescatore che fa degli errori a quanto ho capito poi ce lo racconti tu e invece il contadino che ha una visione diversa e fa delle scelte sagge che permettono ai suoi figli di sopravvivere questa tua favola è una cosa che è nata un giorno che mi avevano invitato a una presentazione a dei ragazzi della prima seconda media e questi ragazzi erano molto bravi molto carini e però la presentazione che i miei colleghi li stavano facendo era decisamente troppo complessa per il loro cambiamento climatico l'effetto serra bravissimi ero facendolo meglio allora mi ero preparata anch'io una presentazione a un certo punto ho detto però poveracci si sono sorbiti così bravamente per un'ora tutti questi discorsi del professor aveva scritto una trama uno script come si dice in italiano una parte una traccia e gli prendevano due volontari uno faceva il pescatore uno il contadino c'era la moglie del pescatore la moglie del contadino i bambini gli detti questo foglio da fare la scena sono divertiti come matti gli è piaciuto questa sceneggiatura come nel tuo libro la si trova quindi volendo si può riprodurre in altre condizioni è molto carino tieni conto di una cosa che non sapevo di Ostrom quando ho fatto questa cosa in realtà la voglio rifare per dire poi che in realtà il pescatore poi impara si mette d'accordo con gli altri pescatori e non perché volevo approfondire con te questo ascolimento quindi perché il pescatore in questo racconto la storia è nota è veloce non è una storia inventata succede il sovrasfruttamento è molto più tipico della pesca che dell'agricoltura l'agricoltura perché il pesce non si conserva tutto lì è molto semplice il pescatore è sempre povero un semplice motivo non ha controllo sulla produzione e non può accumulare capitale il pescatore è un comunista per natura in sostanza ma comunista povero comunista di come vorrebbe ma non riesce mai a fare la rivoluzione ma se leggete il Vangelo che si parla tanto di pescatori eh già erano dei sovversivi giustamente il loro capo era un tizio che anche lui era un pescatore come si legge nel Vangelo era chiaramente il manager della public relation della cooperativa che gestiva la pesca nel mare di Galileo e abbiamo anche dei dati su quanto pescavano noi Vangeli c'è scritto questo e non per nulla il simbolo dei primi cristiani come vi ricordate era un pesce e non sapere tutti dicono ma dal latino era proprio un pesce perché perché i pescatori sono la parte più povera della società pure importante perché però sono anche più sfruttati perché i contadini hanno tragicamente bisogno di proteine e la pesca le può fornire queste proteine proteine di alta qualità però il pescatore poveretto è sempre sfruttato eccetto in tempi moderni quando si comincia a sviluppare la preservazione la conservazione del pesce avete letto la storia dei vichinghi che arrivano e conquistano mezza Europa dalla Scandinavia come hanno fatto perché nelle navi dei vichinghi accumulavano il pesce in forma di baccalà un stoccafisso quindi potevano la nave poteva avere un range di migliaia di chilometri poi arrivavano anche in Italia scendevano e facevano era possibile tra l'altro seccare visto il clima dell'Europa ed era un'arma segreta dei vichinghi perché qui da noi come ho scritto nel libro se tu prendi un pesce lo appendi al filo dei panni davanti a casa tua dopo tre giorni tutto il condominio ti battono alla porta se lo fai in Norvegia non mi fido di quello che ho letto lo fai e c'è un clima che è particolarmente buono per fare questa cosa il pesce si secca e diventa stoccafisso che non è la stessa cosa del baccalà ma insomma il baccalà è salato lo stoccafisso è una meraviglia tecnologica tra le altre cose i vichinghi che erano andati ad abitare in Groenlandia che però il clima della Groenlandia non è adatto allo stoccafisso è più umido e quindi non ci sono più vichinghi in Groenlandia ma ci sono ancora vichinghi loro discendenti in Norvegia perché in Groenlandia sono morti di fame che non potevano e non era la terra verde c'è gente che insiste a ripetere la terra verde c'era tutto no c'era il ghiaccio come ora però c'era delle striscioline verdi dove abitavano i norvegesi insomma quindi il pescatore vabbè muore di fame per queste cose mentre il contadino in qualche modo riesce a sopravvivere in qualche modo e su quello voleva agganciarmi perché c'è un'altra cosa mi pare interessante su cui volevo sentire perché il contadino ce la fa sfamare i suoi figli nel tuo racconto è una tradizione molto antica che ancora noi abbiamo circa 10.000 anni di storia di tradizione contadina e questo è un punto abbastanza fondamentale che il contadino in qualche modo riesce ad accumulare capitale capitale in forma di cibo che poi il capitalismo nasce da quello bene o male se poi nascono le città è perché il contadino riesce a rifornirle di cibo però appunto con queste invenzioni del 7-8.000 anni fa si comincia a riuscire a fare una cosa che era impossibile prima accumulare capitale di cibo avere un surplus di cibo e poi questo surplus si diventa un surplus di popolazione che poi tutta la civiltà che è quella che è il contadino è sfruttato senza dubbio però non allo stesso modo del pescatore in una società moderatamente stabile come poi dopo varie oscillazioni vale modello del capoterra anche per i contadini cioè si stabilizza si stabilizza perché anche il padrone feudale il duca il conte a un certo punto non può ammazzare tutti i contadini se no non produce più quindi si stabilizza ci sono dei casi per la storia del Giappone ti faccio solo un esempio per mille anni popolazione stabile e più o meno c'era da mangiare per tutti con attenzione ma è una società stabile civile ben ben ordinata con tutti i suoi difetti ma che ha prodotto cose interessanti non si può fare per i pescatori perché sono soggetti a queste oscillazioni che poi sapete la storia c'è la vecchia storia dai a un uomo un pesce e vivrà per un giorno insegnale a pescare e distruggerà il mare non era proprio così non era proprio così ma ecco va un po' adattata ma è così scusa Ugo dalla lettura tra l'altro questa cosa che ti dirò anche tu lo tratti sostanzialmente ritorniamo alla comunità contadina perché è vero quello che stai dicendo nel rapporto col fede votario però da un'esperienza personale che ho vissuto all'interno dell'entroterra Ligure una Val d'Aveto si chiama insomma una zona che è stata diciamo in cui le strade sono arrivate negli anni 30 tanto per darti un'idea una comunità contadina è andata avanti come appunto stavi raccontando tu sulla questa cultura contadina giapponese sicuramente per millenni perché ci sono anche i segnali storici tutto questo in una situazione di equilibrio in cui ci sono stati anche vari signori dai dori ai fieschi che in qualche modo ovviamente hanno fatto hanno governato l'utilizzo di queste risorse però c'è anche un'altra realtà estremamente interessante a me non mi ha colpito molto che era quella delle regole dell'uso dei beni comuni per cui queste regole continuano ancora a essere presenti nel senso che per esempio quando arriva un forte temporale tutti escono fuori per andare a tenere puliti tutti quanti ri o comunque diciamo lo scolo delle acque per poter garantire una buona manutenzione delle strade delle strade poderali tanto per farti un esempio e altre cose di questo genere anche altri livelli anche storie ripeto che sono andata da farmi raccontare estremamente interessanti l'idea che mi sono fatto io è che una comunità contadina riesce a essere più in equilibrio con le risorse perché come dire questa comunità la sua esperienza gli fa capire che non può andare oltre quindi il bosco può essere tagliato in funzione della quantità di legna che gli serve ma non di più perché sennò il bosco non riesca a riprodursi per farti un esempio forse banale ecco pensi che ci sia questa cosa e comunque questa saggezza chiamiamola così contadina non potrebbe essere utilizzata a livello globale perché il nostro problema oggi è che mentre il contadino vede se fa qualcosa di sbagliato si rende conto che ha un danno immediato e quindi può rimediare in questa globalità di oggi in cui appunto ci arriva il findus che non si sa bene da dove e da come poi magari lo riprendiamo rispetto al pesce d'allevamento le regole appunto valgono altre regole che non sono quelle di continuare a mantenere un equilibrio che garantisce la durabilità di una comunità nel tempo che ne dici che ne pensi Federico tu hai centrato esattamente il problema è proprio qui il punto ora io vi sto interessando ora sto leggendo ora i libri di Elina Rostrom che lei ha questa esattamente la ricetta per salvarci in principio vediamo ci interessa in principio il problema qual è che lei l'ha trovato sui contadini per i boschi per i funghi anche da noi in Italia abbiamo una tradizione di quello che chiamiamo yusici vici ma li possiamo vivere anche bene i comuni e se tu vivi in un villaggio più o meno contadino o di boscaioli ti accorgi che le interazioni sociali fra le persone ti impediscono di far danni perché sennò non puoi vivere in un villaggio se tutti pensano che rovini il bosco anche nella pesca a differenza del mio raccontino pesca su piccola scala pesca fluviale pesca nel lago i villaggi locali si adattano e c'è prova scientifica cioè non è che stiamo parlando di teorie è proprio una cosa che succede il problema è come scalarla a questo punto dice va bene come riusciamo a metterci d'accordo fra quelli che fanno pesca oceanica i quali sono sempre una tentazione dice ma mi prendo trovo una balena me la prendo e me la porta a casa ed è mia e uno non è che ti viene in mente ma forse abbiamo pescato troppe balene la lascio lì perché se la lasci lì arriva un altro tuo collega e la pesca lui e non riusciamo al momento ancora a capire come questa cosa la possiamo portare su scale più elevate però attenzione secondo me è possibile cioè non è che stiamo parlando di cose impossibili cose che succedono ci sono purtroppo ci troviamo di fronte una visione generale che è invece teorica un'invenzione di professori universitari senza offesa per i professori universitari alcuni dei quali li conosco abbastanza bene che invece ritengono che il sistema si ottimizzi se ogni elemento del sistema ogni agente del sistema massimizza il proprio profitto il quale si può provare nell'ambito molto etereo e astrale di certi modelli che però la prova astrale nel modello non vuol dire che succeda nel mondo reale però ti trovi di fronte a questa difficoltà se parli con gli economisti loro hanno questo modello mentale nella testa che dice no ma se io ottimizzo i profitti io ottimizzo il sistema lo ottimizzi ma lo distruggi e questo viene fuori dal modello di Rocca Volterra che a questo serve per farti capire qual è il problema non ti prevede niente non sai quando esattamente però ti rendi conto che se tu premi troppo sulla risorsa la risorsa non si riproduce o si riproduce poco alla fine ottimizzi i tuoi profitti distruggendo la risorsa e in più c'è l'altro tema c'è l'altro tema di come poi le variabili che entrano in gioco sono molto più complesse non è soltanto un problema di peschericci sempre più grandi che vanno appunto magari col satellitare trovano i banchi e ne prendono c'è anche il problema per esempio dei cambiamenti climatici di cui abbiamo avuto questa vampata a Glasgow è già passata di moda il tema perché anche sul mare stanno influenzando tu nel tuo libro ne parli questi cambiamenti appunto climatici dell'acidificazione delle acque a causa anche dell'aumento dell'anidride carbonica alla prolifazione in specie aliene qui se Maria Teresa ti manda un'immagine è per esempio l'arrivo di Barracuda in quello di Portofino io ho fatto fin da ragazzo un po' di pesca subacquea poi ho deciso che non pescavo più perché preferivo guardare i pesci scoprire le sue cose e io Barracuda non ho mai visti finché appunto due o tre anni fa prendendo il brevetto dei veramente metri mi sono trovato in questo branco di Barracuda come pesci assolutamente stranei all'ambiente del Mar Ligure ecco ed ormai sono presenti dappertutto compresa le mucillaggini che stanno facendo sparire le gorgonie che era un'altra delle caratteristiche del ponte del promontore di Portofino un spettacolo bellissimo tra l'altro visibile anche in Apnea temo che non sia più visibile proprio per quei cambiamenti climatici che stanno inducendo dei cambiamenti che hanno a loro volta una pressione su un ambiente su un ambiente marino quindi pesci e altri organismi marini questo è un altro bel problema no? è un bel problema anche questo diciamo che al momento ancora l'effetto climatico sul mare non è più importante c'è anche quello ma è più che altro lo sbilanciamento del sistema dell'ecosistema marino che ti sbilancia tutto anche quello è il modello di Rocca Volterra tu rimuovi una specie questo è il grosso problema dei modelli standard che usano gli specialisti di pesca io calcolo quant'è il massimo maximum sustainable yield MSY che è il peggior disastro dell'universo una volta che tu hai calcolato ma io mi calcolo quanto pesce posso pescare e mi fermo lì e poi il governo fa il decreto dice fermati lì no ma come che non c'è quel pesce solo nel mare c'è un modello assurdo alla base poi di solito utilizzato male succede che tu peschi troppo di quella specie di pesce ma non è solo quel il problema perché poi viene fuori una cascata di effetti per cui perché i barracuda non c'erano nel Mediterraneo evidentemente c'era qualche specie che gli impediva di venire nel Mediterraneo qualche non so cosa farsi tonne o chissà cosa ma ma se cercavano di venire qualche animale se li mangiava e non c'erano più adesso quella specie lì è stata distrutta quasi probabilmente come buona applicazione di quella MSY del modello a quel punto e barracuda possono entrare nel Mediterraneo lo stesso delle meduse ora non so in Liguria quanto è il problema questi ogni tanto ci sono le invasioni anche per noi è un'invasione di medusa di meduse spaventosa perché ci sono le meduse ora perché ci sono i pesci non ci sono più i pesci che li mangiavano e una volta le meduse erano cibo per i pesci ma ora c'è un ulteriore problema perché se non è che dici allora smetto di pescare vanno via le meduse no perché a questo punto le meduse mangiano le uova plankton e quindi non fanno crescere i pesci quindi il sistema è stato alterato in modo non definitivo perché nulla definitivo ma in modo difficile a questo punto di tornare indietro bene senti qui stiamo avviandoci verso l'ultimo quarto d'ora per le domande però c'è un argomento che su cui volevo sentire un po' cosa ne pensavi perché poi questo argomento lo tratti nel tuo libro ora vabbè come tu ben sai il nostro ministro Cingolani di fatto in modo che ci si poteva aspettare non casuale ha rilanciato il nucleare e molte persone a fronte di una di un'osservazione che anche l'uranio cosa che peraltro anche tu dici ovviamente non è un come dire una risorsa non rinnovabile quindi destinata in qualche modo a finire in tempi più o meno rapidi dicono sì vabbè però noi potremmo andare a prendere l'uranio nel mare cioè è una quantità incredibile ecco tu che su questo è come quelli che andavano a cercare il formaggio sulla luna magari mettiamo che la luna sia fatta di formaggio per ipotesi che poi dal lunaggio come ben sapete non c'è stato è stato fatto tutto a Hollywood non entriamo in questo argomento sarebbe un formaggio troppo caro ammesso che fosse e c'è gente che ragiona vado sulla luna a prendere l'isotopo 3 dell'elio per farci poi la signore io mi sono limitato a fare qualche conto che se uno fa per vendervi qualcosa per farvi investire nella sua ditta che dice estrarrà uranio dal mare allora va bene non inventa le cose peggiori però fate dei conti fateveli da voi per dare sufficiente uranio ai reattori attuali e non quelli che uno dovrebbe costruire bisogna filtrare tutto il mare del nord una volta l'anno che è una cosa un pochino massiccia come impegno sull'ecosistema filtrare il mare del nord non ci sono limiti alla tecnologia però i limiti ci sono a quanto uranio nell'acqua ce n'è un po' non poco l'idea potrebbe anche interessante ma ti metti in un'impresa che che non la puoi fare su larga scala perché o peschi nel mare o cittiri fuori uranio perché se l'impianto se il mare del nord si serve per produrre uranio non ci vai più a pesca e poi non è che basta il mare del nord diventa tra l'altro sto pensando che adesso c'è uscita la notizia che penso sia vera che le meduse quella proliferazione di meduse che stavi dicendo prima stanno intasando i filtri degli impianti di raffreddamento delle città sia a carbone piuttosto che insomma che hanno bisogno di acqua di raffreddamento e quindi abbiamo questa bella sorpresa anche dovuta a sua volta da questi squilibri che la tecnologia non aveva previsto anche perché le centrali nucleari hanno bisogno perché sono inefficienti hanno bisogno di molta acqua di raffreddamento quindi non succhiare acqua poi c'è acqua salata non salata la devi distillare diventa un'impresa se poi volete fare un banale incidente ha fatto fallire l'azienda che aveva costruito quell'impianto se poi volete mettere una centrale nucleare nel mio giardino io accetto sta cosa diciamo per un cento milioni di euro volentieri poi io me ne vado in un altro posto volevo per concludere tu hai un bel blog molto interessante l'hai chiamato effetto Seneca ma spiegacelo un po' intanto questo effetto è Seneca è Seneca che conosciamo lo stoico lo stoico quello di Nerone sì che è una storia interessante quella di Seneca rientra un po' nelle cose che abbiamo parlato c'è una ragione Federico guarda che Seneca non lo sa nessuno è la mia teoria filosofica Seneca era un blogger blogger se leggete quello che scriveva che lui non aveva la tastiera si legge come un blog cioè è una comunicazione rapida veloce e lui usava tutto un set di modi di dire che non aveva il grassetto però se lo vedi quando c'è una frase in grassetto come il blogger scrive un grassetto per ipatizzare e lui usava questo stile qui non era un filosofo molto profondo Aristotele Platone era uno così che si divertiva un intellettuale che parlava un po' di tutto si divertiva a parlare anche di fulmini di montagne di cose faceva anche panchiere c'è una stunga storia anche lì che non scherziamo ma uno di queste sue frasi col in grassetto quelle che trovi nella sua una produzione abbastanza ampia ma la trovi scritta in grassetto era questa che lui diceva scriveva un suo amico dicendo carissimo Ricidio volesse il cielo che le cose andassero male lentamente così come crescono invece invece dice la crescita è lenta ma la rovina è rapida e questo è il modello di Locca Volterra in una certa implementazione se dovremmo chiamarlo modello Seneca ma ormai probabilmente non lo troviamo più bene senti vabbè finiamo su questa cosa avrai visto anche tu il film Don't Look Up ti sei un po' rivisto non l'hai visto però ho sentito dire di cosa parla a me l'ho visto e in qualche modo mi è piaciuto perché vabbè solanzialmente racconta di due astronomi che scoprono che è una cometa sta venendo diretta sul pianeta tra due mesi loro fanno i conti esatti al 99,7% e qui è il problema quindi ha capito che c'è il problema ma la politica lo spettacolo i mass media non gli danno ragione anzi c'è un personaggio inquietante che dice appunto ah ma questa facciamola venire giù poi la spezzizziamo in tanti pezzi per andare a recuperare i metalli rari che questa cometa contiene ci faremo una bella barcata di soldi che poi ci serviranno per far finire la fame nel mondo e dicono esattamente così la domanda è vabbè ora ti senti un po' Cassandra insieme a mi immagino tanti altri colleghi visto che hai fatto stai facendo parte del club di Roma e quindi in qualche modo come dire il limite dello sviluppo di quanti anni fa scusate se fu scritto quel libro che poi tu hai rivisitato quindi tra l'altro ho letto anche la tua rivisitazione se tu sei d'accordo vorremmo anche magari ci possiamo rivedere per parlare di questi argomenti un pochino più specifici comunque la tua ecco diciamo come ti senti nell'avessi di Cassandra ultimamente ho imparato tante cose che prima non sapevo sempre si impara anche tu Federico che impari delle cose se l'avessi saputo io quando ero piccolo sai quante cose avrei fatto in realtà io credo che anche Cassandra avesse i suoi difetti perché bisogna stare molto attenti un problema di questo film che non ho visto ma ho letto la trama e comunque l'ha riassunta e credo che sono sicuri questi due scienziati che ti caschi l'asteroide sulla testa ma c'è un rapporto costo beneficio anche su tutte queste tutte queste cose che facciamo siete sicuri cari signor Cassandra e signorina Cassandra che veramente avete il 99,9% di probabilità che ci caschi addosso questo asteroide ora la cosa dell'asteroide probabilmente si arriva ad una certa precisione ma il fallimento dei modelli predittivi che abbiamo visto negli ultimi due anni è stato talmente pesante che io stesso che sono un modellista non mi fido più di nessun modello anche se uno viene e uno dice ma casca l'asteroide ma siamo sicuri pensiamoci sopra ovviamente questo se uno ragionasse razionalmente ci metteremmo lì diciamo questo è il tuo modello questo dice questo diventa politica poi arriva qualcuno che ci fa sopra i soldi sul tuo modello un scienziato non ci fa i soldi però spaventando la gente con l'asteroide meno male non gli è venuto in mente a nessuno hanno fatto solo un film ma immaginati che qualche scienziato pazzo inventasse sta accadendo l'asteroide datemi un miliardo di dollari che così che così lo caccio e poi fa finto potrebbe secondo me potrebbe anche succedere per cui questo è ancora più in alto di Ostrom cioè non riusciamo a gestirci il sistema globale e questo è un problema di un'enormità spaventosa non è questione di modelli non è questione di cose è proprio come evitiamo che la gente faccia soldi sulla ignoranza degli altri questo è generale molto generale molto peggio del sovra il cambiamento climatico penso che non sia da mettere in discussione poi si tratta forse di come dicevi non è non è in discussione eccetera però insomma non è in discussione ma la scienza ha preso una tale mazzata io mi sono definito scienziato preoccupato sì sì perché lo sono veramente sono tutti preoccupati però la scienza ha preso una tale mazzata negli ultimi due anni che e anche il cambiamento climatico comincia a non non tira più come tiravo una volta il problema c'è ma non riusciamo a aver fiducia che certe cose che dovremmo fare contro il cambiamento climatico veramente contro il cambiamento climatico non siano per arricchire qualcuno questo è quello che si chiama greenwashing il greenwashing è un problema reale certo questo è un argomento che potremmo se tu sei d'accordo potremmo ritornarci perché mi interessa nella mia formazione chiamo pure da chimico ambientalista è stato fatto sullo sviluppo sostenibile cioè scusate il limite dello sviluppo è il libro che è della mia biblioteca insieme a Carson insomma sono le cose fondamentali aspetta ho anche appunto visto la tua rilettura di questo episodio mi sembra piacerebbe riparlarne perché è importante capire appunto vabbè anche per familiarizzare con gli altri con i limiti del modello scientifico di ricerca insomma perché c'è anche questo tema forse nessuna certezza assolute però abbiamo un metodo per cercare di capire dove stiamo andando vabbè se non voglio aprire questa cosa io non stai tu sei d'accordo vabbè non so c'è Maria Teresa ha già delle domande più che domande sono considerazioni ecco facci leggite facci vediamo osserva ci fa notare che dal 1 gennaio 22 è vietato pescare i cetrioli marini che vivono sui fondali marini e contribuiscono alla salvaguardia dell'ecosistema chiede Mare Vivo presieduto da Rosalba Junior che è presente nel libro Spigolatrici d'ambiente che tale divieto diventi definitivo il mare che gioca un ruolo da protagonista dei cambiamenti climatici non è stato invitato alla COP26 mentre al tavolo in cui erano riunite le nazioni del mondo si discuteva e si prendevano accordi per mitigare e affrontare gli enormi problemi che coinvolgono l'intera umanità pena la scomparsa della nostra specie dal pianeta Terra il mare che ricopre il 71% della superficie produce oltre il 50% dell'ossigeno un respiro su due lo dobbiamo all'ecosistema marino assorbe il 30% della CO2 e l'80% del calore generato dall'uomo negli ultimi 200 anni ma non c'è minuto che non sia sotto attacco in ogni angolo della Terra inquinamento e overfishing stanno distruggendo un equilibrio straordinario formato sui milioni di anni tra essere animali e vegetali grandissimi come le balene e minuscoli come il prezioso si è perso il prezioso planton planto probabilmente e io ringrazio Pinuccia Pinuccia per questo per questo commento che tra l'altro anche lei grande esperta di gestione delle risorse di trattamento dei rifiuti eccetera eccetera e fa piacere che sia venuta a sentirci ci sei Pinuccia ti mostri attiva il microfono si sono qua sono qua ciao Pinuccia mi fa molto piacere vederti anche a me sentirti perché lo dicevo anche con i ragazzi delle diverse università insomma segnalavo che il tuo approccio è molto interessante io avrei anche quello l'avevo messo perché parlavi del mare mi sembrava visto che io sono stata a Glasgow ho seguito la parte della green zone di Glasgow e lì proprio del mare purtroppo non se ne è parlato ma neanche in quell'ufficiale però mi interessava capire rispetto a questa interessantissima tua considerazione sulla sulla questione dei modelli predittivi e del fallimento dei modelli predittivi questa cosa su cui si basano anche le decisioni poi del Glasgow Climate Act che è quella della fine dell'esaurimento delle fonti fossili sostanzialmente volevo qualche tua considerazione in merito perché di fatto questa idea di non aumentare non aumento della temperatura natural di sopra di un grado e mezzo proprio a causa di non solo delle emissioni di CO2 ma proprio del fenomeno appunto dell'esaurimento delle fonti fossili che è quello che spaventa di più anche l'economia per certi versi ecco volevo una tua valutazione hai detto facile Pinuccia hai detto hai fatto la domanda più difficile dell'universo al momento attuale come si fa a sapere e vedi i modelli non sono predittivi perché ci sono dentro talmente tanti parametri che potrebbe anche succedere che il sistema vada a crollare da un'altra parte non per eccesso di riscaldamento ma per mancanza di combustibili fossili e questo lo stai vedendo hai sentito parlare del famoso picco del petrolio e nessuno ne parla ma è stato l'anno scorso stiamo vedendo la produzione che sta accadendo la produzione di gas la produzione di petrolio e tutto di nuovo è l'economia che non è però l'economia tutto quello che vuoi no è picco della domanda non è picco dell'offerta tutto quello che vuoi per onestà non si cresce quindi che succede molti dei modelli che pretendono di di prevedere il futuro non riescono in realtà a prevedere di succedere qualunque cosa in questo momento i modelli non tengono conto i modelli climatici non tengono conto dei cosiddetti tipping points che a questo punto il sistema può essere già fuori controllo e non si sa che succede questo è malissimo oppure potrebbe anche succedere che il sistema si autocontrae perché non riesce a produrre a continuare a produrre allo stesso ritmo in cui produceva per sovrasfruttamento delle risorse ora sapete leggevo ora un articolo su questo problema dei chip elettronici dei circuiti elettronici che sembrava diciamo una cosa uno squilibrio ora il mercato rimetterà tutto a posto ma si sta facendo sempre più grave perché c'è una una problematica di fornitura di materie prime all'industria che non riesce più l'industria a produrre come produceva prima senza chip elettronico si è in difficoltà a fare tutto quello che facevi fino a ora anche a controllare un sacco di cose tipo la gestione dei rifiuti per esempio che anche quella richiede tutto un controllo del sistema che richiede chip elettronici che poi in realtà ci stiamo muovendo in una specie di scogliera non sappiamo su che scoglio andremo a sbattere o forse con un po' di fortuna possiamo anche svicolare fra i vari scogli non è detto però c'è una richiesta di Zanek che cosa fare schieto scusa Ugo perché vabbè a parte che potremmo approfondire l'argomento in un'altra puntata cosa fare lo articola dicendo come faremo ad esempio a dare pesce oltre al resto a 9 miliardi di persone è buona cosa mi sa che l'april ci sono due possibilità una è dirgli che gli insetti sono più buoni del pesce che mi sembra che sia di moda adesso mangiare io ho assaggiato gli insetti sono buoni devo dire però un bel salmone alla griglia è molto più buono oppure li creiamo i pesci ingegnerizzati per manufacturing in tridimensionale attraverso queste nuove macchine di fermentazione che creano proteine partendo da energia elettrica sentite nominare Pinuccia è bellissimo questa con un sistema di 3D manufacturing si è un salmone terrificante è bello oppure anche no oppure ti contenti di quello che hai oppure meduse meduse anche in Cina si mangiano in Italia non è permesso al mercato di venderlo non c'è una legge però mi dicono i miei amici cinesi che a casa loro si fanno rispaghetti alla medusa è proprio buono va bene felice qualche altra riflessione nel momento no non ci sono altre domande va bene e ora se non ci sono altri interventi se Diugo pensi che sia il caso di che ci risentiamo perché io poi vuoi dire questo tema dei modelli anche così ecco questo tuo pensamento potresti invitare l'aria che anche lei è esperta di queste cose per una boccia un po' diversa visto che fate molte cose insieme sì sì ora lei parte per l'Inghilterra ma va a lavorare per due anni a Cambridge magari se ci propone anche ecco se magari ci proponete qualche argomento da sviluppare è molto interessante il lavoro che sta facendo che farà Cambridge sono dei modellisti estremamente quotati su questa cosa di cui stiamo parlando cioè poi cambiamento climatico risorse cose sono sono il top sì sì ma direi che ci pronotiamo eh bene bene all'ultimo momento è entrato con una sua estrapolazione Genova nel 2050 per avere energia pulita dovrà costruire dovrà costruire scusate un centinaio di isole a 20 km dalla costa eoliche fotovoltaiche che potrebbero essere base di siamo siamo sui livelli della possibilità non è impensabile non basta non mi dici che come si diceva una volta si 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 pavimenta tutto di di fotovoltaico eccetera è possibile forse non c'era nemmeno bisogno il problema diventa la CO2 non favorisce il verde e quindi aumentano le piante e il verde è vero sta succedendo sta succedendo però il sistema non è così semplice quando il sistema si squilibra il sistema reagisce tende a non andare nella direzione in cui lo vuoi mandare cioè forzando come si dice la parola tecnica il sistema con la CO2 il CO2 più propriamente che succede sposti il sistema verso una temperatura più alta il sistema reagisce assorbendo il CO2 e diventando più verde sta succedendo assolutamente però non è che non succede niente tu fai un forzante di 100% il sistema se ne assorbe il 50% meglio che niente però non è che puoi con questo sistema faccio quello che mi pare tanto il sistema se ne assorbe manco per idea ma comunque c'è un ragionamento anche qui estremamente complesso ma di una complessità spaventosa perché io sto lavorando adesso mi sto divertendo cerco di dare un modesto contributo a un gruppo di ricercatori russi che fa capo a una signora che si chiama Anastasia Macarieva che sta a San Pietroburgo che dello studio hanno l'effetto climatico delle foreste che secondo loro i modelli delle PCC delle foreste sono tutti sbagliati avranno ragione secondo loro comunque le foreste hanno un effetto raffreddante sul clima molto superiore a quello che sta nei modelli dell'IPCC e può darsi che abbiano ragione non mi sento di dargli ragione perché non ne so abbastanza però se tu vai a vedere come è fatto un modello climatico e ci sono talmente tanti parametri che c'è tutto lo spazio necessario per dire un certo settore del modello è tutto sbagliato può essere il modello comunque ti dà dei risultati che sembrano accettabili quindi qui c'è l'altro per l'altro una cosa secondo Macarieva e i suoi colleghi l'essenziale per combattere il cambiamento climatico in questo momento è riforestare e soprattutto non deforestare che è una cosa ben diversa che piantare alberi uno dice ma pianto l'albero no devi lasciare in pace le foreste ma la stessa cosa del mare se tu cominci a dire ah gli alberi sono una cosa utile ne tagli un milione ne pianto un milione e cento non funziona così ma fai peggio lo stesso il pesce il pesce ma io pesco un miliardo di tonnellate però mi metto nel punto di maximum sustainable yield succede dei danni spaventosi come tutte le cose ci vuole misura e secondo me vi dirò confidenzialmente nessuno non lo ripetete a nessuno perché lo sappiamo solo fra di noi secondo me ce la caviamo però se smettiamo di distruggere le foreste e allo stesso tempo peschiamo un po' meno come lo si possa fare non lo so ma secondo me ci potremmo anche arrivare bene d'accordo con questa tua diciamo così questa speranza niente io ti ringrazio tantissimo è stato veramente utile interessante immagino che sia piaciuto questo tuo intervento anche tutti gli altri che ci hanno seguito allora io ringrazio te quindi ti do appuntamento allora a una prossima puntata magari dopo il prossimo dopo l'estate insomma abbiamo già un programma abbastanza denso di ulteriori incontri io volevo appunto ringraziare allora Cristopher Garaventa che ci ha assistito alla regia Mariuccia Romano che ci dà una mano alla console Carola che cura la grafica e anche Maria Teresa Tuccio che a questo punto fa da moderatrice ma che invito a dirci qual è la prossima puntata chi ci verrà a trovare? La prossima puntata avremo l'architetta Francesca Mazzino docente di architettura del paesaggio dell'Università di Genova e ci parlerà di tante belle cose in particolare forse nel suo libro Il ritorno alla natura perché si pensa che quella potrebbe essere una delle soluzioni per il bosco in città come appunto anche qui che si stava parlando prima che è anche una possibilità prima e si stava parlando a dicembre con Martini esatto torniamo sempre allora io saluto tutti e arrivederci arrivederci a tutti alla prossima